E noi siamo allo sport, l'Abruzzo lancia la nazionale femminile di pallavolo verso i prossimi impegni internazionali. Le ragazze di Davide Mazzanti svolgeranno la preparazione al palasport di Lanciano. Mariano D'Amico. Parte da Lanciano il viaggio della nazionale femminile di pallavolo verso gli impegni internazionali di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente lunga e intensa. Si comincia a fine mese con la Volleyball National League, si prosegue con gli europei, si conclude con le qualificazioni olimpiche. Forse quest'anno è l'anno in cui riusciamo ad allenarci meno perché la stagione è ultra compressa, quindi dovremo essere bravi ad approfittare di questo tempo di allenamento e poi di riuscire a crescere dentro i tornei perché ci sarà poco tempo per allenarci. Le ragazze di Davide Mazzanti resteranno in città fino al 24 per un collegiale che si concluderà con un triangolare con Croazia e Canada. Alte le ambizioni delle azzurre. Sono in tanti come noi che mirano a voler stare tra chi eccelle ed è la sfida più bella perché sai che mentre tu sei qui, in tanti posti in giro per il mondo, ci sono persone che stanno ragionando e pensando come te per riuscire a starti davanti. Notevole lo sforzo di Regione, Comune e Federazione a livello locale per portare in Abruzzo un simile evento, un investimento dal valore incomparabile. Investire sullo sport è investire sul benessere, investire su valori sociali e questo lo rendicontiamo poi sulle persone che siamo. Quindi è un investimento proprio per i nostri figli ma non solo, dico anche per i nostri nonni perché comunque stare sempre in un ambiente attivo, positivo, di valori etici che vogliamo trasmettere ai nostri figli penso che sia l'investimento economico più bello ma proprio di vita, di benessere che ci possa essere.